ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi faremo una challenge con un ospite speciale però prima di fare questa challenge vi ricordo di mettere like e iscriverti al canale l'ospite è luca no non luca ricordati jimmy choc l'ospite oggi è jimmy choc ok incominciamo subito con la challenge la challenge che si tratterà oggi la challenge di oggi consiste nel consiste nel mangiare biscotti e caramelle strane bene io ho una fame assurda quindi mangerò qualsiasi cosa andiamo a pescare andiamo a pescare una caramella o un biscotto quello che cavolo è questo ho pescato questo e aspetta dopo intanto ho pescato questo questo qua rosa eccolo qui l'altro incominciamo a mangiarlo ho paura però io non ho paura per niente forse il colore mi stranisce ma anche a me perché all'apparenza normale cioccolatino sì però dentro devi vedere un po non aprite dovete mangiarmi ma io se mi ci metto di impegno eccolo qua dire vero è un cioccolatino normale quando non è normale che sono di nocciola sì ma buonissimo questo non è vero tieni gabi anche andato giù non va giù come non ti va giù mi sta riproponendo scusa pescare un altro cosa questo questi qua io me ne strafocavo da piccolo ok andiamo ad aprirlo e vediamo com'è salva da mano grazie mi accomodo un pochino magari sei un po' spogliato penso di sì sai magari sei un po' spogliato wow ma che cos'è ragazzi apparentemente sembra risossoffiato quando è cioccolato sopra ecco e chissà cosa mi farà un po' schifo ma non... vabbè tieni quale vuoi dai mi faccio tanto schifo no a me piacciono invece queste cose qua ma che cos'è qualsiasi vai papi tu nooo no provo a vedere che ti piace ho paura dai è buono no no questo è buono ah bravo e via il video paura una due una buono provi sì mhm ok questo lavora ottico però vabbè dai canino è buono trovi i semi non è che... vabbè ok prossimo potresti la la mista giocca no? buono ok abbiamo mangiato quelli ora passiamo a questi vai quindi sono al peperoncino sono al peperoncino vedremo come sono sono anche un po' neri è perché cioccolato fondente presumo vorrei aprirlo però perché dentro sono come dei normali cioccolatini è vero vediamo vediamo oh mamma mia ho paura ma è nutella oh no è crema di cioccolato con del peperoncino ma è normale crema di cioccolato con del peperoncino dentro provalo prima tu l'odore non è molto confortante provalo prima tu Luca vuoi un soggetto? com'è? laica? sarebbe ora che la smittesi di pannello per il... cosa? non becca per un cazzo cioè nel senso becca ma quando la mandi giù ti pizzica un po' la gola no allora no amici l'unica cosa che senti è quella ma per il resto non è piccante è dolce quindi tu se non riesci a mangiare non mangia ne poco vero? perché comunque non vorrei dopo che stessi male o cose del genere quacky poop sì c'è un po' la po' la porno non c'è che stai guardando pure no senti al peperoncino Senti vai a prendere C'è il coso Non c'è il latte No Qualcosa da mangiare tipo pane o roba del genere Che se ci dà fastidio mangiamo quello Ho un altro Eh ragazzi il cioccolato di prima Lei non è abituata Io sì perché a me piace tanto il peperoncino Però Alla fine non è stato l'arancio Passiamo al prossimo cibo Cioè sarebbe un marshmallow Squishy Guardate Non taglia la minchia No lì dentro Oh aspetta aspetta Dai si è aperto c'è la linguetta Ah ok non ci credo Mi stai lasciando il peperoncino Nooo 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 riusciremo a fare metà di questo coso squiscioso è proprio per scu... cioè bisogna tagliarlo... bisogna tagliarlo a metà non ce la facciamo, mi do tutto passiamo è zucchero ma è tipo caramela è un angolia ma è un angolia comunque è giocano allo stato pur passiamo subito al prossimo uccibho allora... mangiamo queste barrette ciocco drago adesso vedi che le lascio fare un drago e ci sputa un po' simili vitamini più ferro ferro Barrette di riso soffiato Cacciao e pallini di cereali con cioccolato Guarda No dai Ok faranno un po' E preggete le barrette quelle da Nesquik? Sì Ecco mi sembra quella L'orizio di Alex anche No però odora 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 Sembra una roba brutta Ho paura Sarà di cioccolato Ho paura L'acqua c'è qua dentro Oddio Ecco Te lo sto dicendo Aspettate che ho perso l'acqua Beh Sarà di cioccolato ma è tanto chimico Cioè è un odore veramente che non ricorda tantissimo al cioccolato Non riuscite a capire Come cavolo sono ste barrette Mi scappa un rutto Posso farlo? No Scusate Assaggiamo Stai rimando? Aspetta Ci sono di mangiare il cioccolato Oddio sono buonissime Vedi? Mmm Sono buonissime Buone Posso finirla? Tanto Ok ragazzi Passiamo sempre al prossimo cibo Questo qui sono sempre Delle barrette Tanto che Questo qui è una barretta di cereali Al cioccolato con confetti colorati Quindi Andiamo subito a provarlo Ecco Ecco vedi Oh No Che figata Dai No Che bello Eccoli qua Guardate raga Cioè Sembrano tipo M e mezzo Ma a me ce ne sono solo due Beh vabbè Che pezzi di mezzo Perché c'è un nuovo aperto E c'è il cioccolato dentro Quindi non ne sono buoni Da me sono stati Scusate Aspetta però voglio provare l'attimo M e mezzo Siamo un m e mezzo vero? Sarà una roba che ci assimiglia M e mezzo M e mezzo M e mezzo M e mezzo Sal di miele Il cioccolato non si sente Forse i confetti si sentono Allora Sal di miele Il cioccolato non si sente E se si sente sono i confetti che si sono dentro Spero Mangia È carudo? No È buono Sinceramente mi è delusa È meglio quello del cioccolato chimico Andiamo 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 Facciamo il prossimo cibo Ne ho preso uno Perché Cioè vabbè Lo dividiamo a metà Quindi È scappuccino Il prossimo cibo Qua sarà Il cioccolatino alla crema Il cioccolatino alla crema Bravo Sempre cioccolatini normali Oh Il mio non ho diviso metà Oh Bella Guarda Sempre Normali dentro Proviamo Proviamo L'ormale cioccolatino al latte Sei scorreggio Beh adesso da tutte le cose a scorreggio mi tieni i cuori È vero Cosa qua Abbiamo Perfetto Bella Andiamo Ce la fai lunga ad uscire Ce la fai ad uscire Così Vai Adoro questi cavallucci Mi frega un pezzo di casattino Vai vai Ma non ha fame ragazzi che non potete capire Oh Cola